Iniziano le tre giornate stellare all'ippodromo di Agnano e si inizia come al solito con i gentlemen, con l'attrice quarta e quinta in ultima del convegno. Prebende per tutti, in ogni corso a tariga al gentlemen di cavallo vincitore offerto dal gentlemen club Campania, confezioni dei prodotti tipici offerti da l'antico l'osificio Petrilla di Aversa e inoltre la scuderia Kaman ha messo un oggetto a tutti i vincitori. Quattro anni sul miglio, Royal Mellan allunga in salto, non ancora il 17, via la macchina. Cellotta alla chiusura, poi ramada, alle prese con Rosa Jet che insiste, si ritrae Riva Par, cavalli impiegata, insiste a largo Rosa Jet, completamento del lancio in 13 e un battito e al completamento la stessa l'errore dell'11 che era partito molto forte e così parcheggia Rosa Jet al comando il buon Pavarotti con la sua ramada. Lunga fila indiana, 429, una volta al comando il buon Vitello gradua e viene via il 4 di Rambus che si trascina il 12 di Ronaldo e il 14 di Rom e Lewis. Fu ricorso all'11 e il 18, 600 se ne vanno in 44 e 2, cavalli che affrontano una piegata, Borbotte il buon Vitello e Rambus con Chianese a largo la tariglia, completamento del mezzo miglio, mezzo miglio iniziale in 59 e 9, e cavalli che affrontano il penultimo rettilino con Rambus sempre alle preso con Ramada, poi Rosa Jet alla finestra a Ronaldo così come Rommel, chilometro bollente in 1'14,8, cede Rosa Jet, cavalli che affrontano la curva finale, con Ramada sempre alle prese con Rambus, si prepara e viene via il buon Petrella con Ronaldo, azione superiore redditizia e si trascina Rommel, secondo me i due si giocano la vittoria, retta d'arrivo con il buon Petrella che sta passando, ma si trascina Rommel, gli rientra però il numero 4 di Rambus, alla grande Rambus con Chianese, e signori, chapeau, si inizia alla grande, con l'ottimo Chianese, mentre per il secondo sul traguardo è il numero 14 di Rommel che batte il 12 di Ronaldo. 2,1,8 sul mio cronometro, che vittoria, gira sempre a largo, mette alle strette la Ramada e indirittura va a chiudere bene bene bene. In chiusura era favorito 3,63 questo Rambus, guidato al meglio dall'ottimo Chianese, che ora andrà a prendere tante prebende. Linea alla regia per il momento.